Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sono finalmente ritornato a fare video su YouTube Scusatemi per assenza lunga ma ero in impegno E niente, io avevo scoperto già questa cosa di una parodia del trader, come sapete tutti, i jogger Per chi non se lo possa perso dovete andare in streaming a vederlo, perché ragazzi è un film, dai, la, bomba, è una bomba quel film ragazzi L'ultima volta avevamo fatto la reaction ai due Peppa Pig Endgame, che li ho appena scambiati come due trader dagli episodi finali E questo potrebbe essere un film, quindi ragazzi c'è la parodia di Peppa Pig Jogger Di questo canale che vi consiglio di andare a vedere, comunque niente chiacchiere, quindi ragazzi mettete un bel like, iscrivetevi al canale E bene, partiamo, via Questo non farò il trailer di un film, quindi farò finta Allora ragazzi, siccome questa è una parodia, farò finta che sarà il film E poi a fine video vi darò anche il rivelamento dell'uscita del film di Gumball E quindi io lo scambierò come il trailer di Peppa Pig, il film Willi stop bothering my kid, sorry Oh, good deal Arthur, I have some bad news for you This is the last time we'll be meeting La stessa scena che avevo visto nei trailer La stessa scena che avevo visto nel trailer finale della puntata dell'ultimo episodio di Peppa Pig Era lo stesso, lo stesso All I have are negative thoughts And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me Well, no one's laughing now You can say that again, pal It's so awful, isn't it? For my whole life I didn't know if I even really existed But I do People are starting to notice You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing Yeah When you bring me out Can you introduce me as Joker? Peppa Pig Send in the clowns Dal 1 gennaio al cinema Niente, si chiude qui questo trailer del film di Peppa Pig Che farò finta che esce il 1 gennaio E adesso vi spiego tutta la verità sull'episodio finale sul film di Gumball Finalmente è stato rivelato il film di Gumball Ma non è stato ancora rivelato il trailer ufficiale Però posso dirvi la data di uscita 27 8-20 Che significa 27 agosto 2020 Però per peccato che purtroppo il film non esce al cinema Ma su cartone Appunto La famosa rete americana Quindi ragazzi Il film verrà mandato solamente in America E non in Italia Quindi non vorremmo aspettare E niente ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Mettete un bel like Scherzi al canale Attivate il campanino Niente Al prossimo video Gamble Fans Gamble Fans